Ciao a tutti, sono Rosanna Ammato e sono un'ex studentessa dell'ISS Marini Gioia. Mi sono diplomata nel 2015 presso il turistico di minori. Secondo la mia esperienza, questa scuola forma gli studenti a 360 gradi, non solo perché rappresenta un diploma finito che consente di entrare nel mondo del lavoro alla fine degli studi, ma anche perché permette di acquisire delle competenze trasversali grazie agli strumenti di supporto innovativi che accompagnano l'apprendimento, come le lavagne interattive, l'utilizzo di iPad, di robot, oppure l'attuazione del progetto Albergo 2.0. Personalmente ho frequentato i corsi CDL, di cui il turistico è test center accreditato e i corsi per gli studenti sono completamente gratuiti. In quinta superiore ho vinto il concorso Titti la Camera, che mi ha permesso di fare un tirocinio di un mese su una nave da crociera MSC come guest service agent, ovvero a detta ricevimento. E grazie alle competenze linguistiche che ho acquisito il turistico, ho potuto frequentare una laurea triennale in una delle più prestigiose università italiane, completamente in lingua inglese. e oggi sto continuando i miei studi magistrali sempre in lingua inglese. In questo momento mi trovo in Francia, precisamente a Parigi, nell'ambito del programma Erasmus e sto studiando all'Université de Sorbonne. E se posso frequentare e conseguire gli esami in lingua francese, è grazie a quello che ho imparato durante i miei studi. Però il turistico per me non ha rappresentato soltanto una formazione nella sfera accademica, ma anche in quella privata e personale. Infatti sono un'appassionata di viaggi e mi piace organizzare le mie avventure in giro per il mondo. L'anno scorso sono stata in viaggio per tre settimane in Asia, tra Thailandia, Cambogia e Vietnam. E più viaggio più mi rendo conto che le conoscenze di storia, storia dell'arte, geografia, geografia turistica sono tutte conoscenze che ho acquisito grazie a ciò che mi hanno trasmesso i miei professori e che a distanza di cinque anni ancora porto con me. Queste conoscenze mi consentono di vivere ancora più appieno e intensamente le mie esperienze. Il mio consiglio quindi è quello di scegliere una scuola che vi permetta di approfondire le vostre conoscenze culturali e tecniche che possiate mettere in campo nella vita di tutti i giorni. Il turistico ha queste caratteristiche, quindi iscrivetevi! Grazie!